Ciao ragazzi, bentornati su Cose dell'altro cinema. The Last of Us, abbiamo già parlato del primo episodio, però qui parliamo di tutta la prima stagione. L'ho finita proprio un paio di sere fa, ho riorganizzato un po' i pensieri e adesso ne parliamo. Allora, io farò un po' di spoiler. Perdonatemi, è veramente difficile, mi è veramente difficile parlare della prima stagione di The Last of Us senza farvi spoiler. Però facciamo una cosa, nei primi 2-3 minuti parlerò in generale della stagione, vi darò i miei giudizi, per quel che possano valere i giudizi di uno youtuber, però vi do il mio giudizio, i miei due spicci, poi fate voi. Se non l'avete vista magari l'andate a vedere o magari rinunciate per sempre, ok? Dunque, secondo me la prima stagione di The Last of Us è una gran bella prima stagione. Quello che mi sarei aspettato. È il top del top, il capolavoro assoluto? Probabilmente no. Ha qualcosina che anche a me non è piaciuto, però insomma, fossero tutte così le serie di tv, insomma, sarei molto incoraggiato a guardarne di più. Quindi per me è assolutamente un sì, è un prodotto che va visto. È necessario giocare il gioco per apprezzare The Last of Us? Per certi versi credo che si apprezzi anche di più senza aver giocato il gioco. E questa è una cosa che dovrebbe, dovrebbe essere la prassi sui prodotti adattati. Io non ne posso più di vedere gente che dice, ah, non ti è piaciuto il film di Aquaman perché non hai letto il fumetto. Io a testate ti prenderei, a testate. Non funziona così. Non devi aver letto il libro, chi cazzo si è letto il romanzo da cui è stato tratto Jurassic Park? Nessuno, nessuno, nessuno. Quanti film di Stephen King avete visto di cui non avete visto il romanzo? Mai, neanche in libreria. Non sapevate neanche che esiste quanti ne avete visti. Eppure vi siete goduti i film, quindi per favore smettiamo la vostra cosa che per guardarsi un film deve aver letto il fumetto. Cioè, è proprio una stronzata su via, è una boiata. Quindi può essere goduto da tutti, è un bel prodotto. Ha per la maggior parte del tempo, secondo me, un ottimo ritmo. Un'estetica veramente interessante. Delle bellissime performance attoriali. E, non ultimo, una colonna sonora della Madonna. Bellissima. Tra l'altro, l'autore è lo stesso che ha curato la colonna sonora del gioco. Tanto per ribadire che il mercato dei videogiochi molto spesso regala delle perle veramente incredibili dal punto di vista della fattura, delle maestranze coinvolte. Ci sono videogiochi che hanno musiche di Hans Zimmer. Sapevate questa cosa? Sono videogiochi che hanno interi reparti orchestrali nella score originale. Quindi, cioè, il mondo dei videogiochi è diventato abbastanza costosello. Più del cinema in alcuni casi, eh. Anche molto più del cinema in alcuni casi. Non sottovalutate i videogiochi. Ne parlo per i non-videogiocatori. Comunque, falastavast. Da qui in poi faccio un po' di spoiler. Dunque, la prima cosa che mi è stata chiara, quando ho visto il primo episodio, è questa. Aggiungeranno delle cose rispetto al gioco. Faranno delle aggiunte. Probabilmente faranno anche dei tagli. E sono stato abbastanza profetico, perché poi gli tagli ce ne sono tantissimi. Soprattutto in quella che è l'azione. Piuttosto prevedibile, dato che nel gioco si gioca a lungo. Ci sono sequenze d'azione lunghissime, perché tu devi giocarle. Quindi l'azione è più articolata. Fai questo, poi fai questo, poi fai questo. E qui ti abbassi e cammini piano piano. E qui c'è il mostro. E qui c'è la macchina. Nella serie TV l'azione è stata ridotta al minimo. Anche perché, come dicevo, il budget del singolo episodio non è altissimo. E le scene d'azione sono particolarmente costose. Rispetto a un dialogo, primo piano, primo piano, piano americano, così. Ecco, la scena d'azione è molto più complessa da realizzare. Probabilmente la seconda stagione, sulla scia del successo della prima, avrà molta più azione. Ci mostreranno anche più infetti. Poi ne parliamo di questo fatto degli infetti. Ne parliamo. Comunque, sapevo che avrebbero fatto delle scelte. Avrebbero raggiunto qui, tolto lì. Me ne sono accorto perché nel primo episodio conosciamo la figlia di Joel, che poi fa una brutta fine, poverina. E lì ci mostrano proprio la sua giornata. Ci fanno vedere, prende il mezzo di trasporto, va a scuola, va a comprare il regalo al papà, va dalla vicina a fare i compiti, parla con un po' di personaggi. Insomma, la vediamo interagire con altre persone e vediamo la sua giornata. Ci affezioniamo a lei in questo modo. Nel videogioco questa cosa non c'è. Perché? Perché la figlia di Joel è il primo personaggio che tu riesci a controllare. Gamepad alla mano. Questa cosa crea un senso di immedesimazione, crea una sorta di legame tra te e il personaggio. Non c'è bisogno di troppa roba. Nel momento stesso in cui tu sei quel personaggio, anche soltanto fare un giretto dentro casa, esplorare l'ambiente, muoverti con i suoi occhi, crea quel legame che invece nella serie tv è necessario creare tramite una buona sceneggiatura. Quindi sapevo che tutta la prima stagione di The Last of Us sarebbe stata impermiata di soluzioni simili. E non avevo tutti i torti. Anche se a volte ho sentito un po' di lungaggine in alcuni passaggi. Alcuni passaggi della sceneggiatura mi sono sembrati un po' abbondanti, ma non sgradevoli. Attenzione. Sembra che girino un po' a vuoto, sembra che siano un po' dilatati, però in effetti grazie anche agli attori che sono veramente bravi, la cosa non ti pesa. Io poi ho guardato alcuni episodi in italiano, alcuni episodi in lingua originale. Me la sentirei di fare anche i complimenti ai nostri doppiatori, sono stati fenomenali. Dal punto di vista della performance, dal punto di vista anche della timbrica vocale, passare alla versione in inglese per me non è stato affatto doloroso. Quindi ragazzi avete fatto un lavoro della madonna, gli ultimi episodi non sono stati doppiati anche per via di uno sciopero. Perché pare che le condizioni dei nostri doppiatori, la paga dei nostri doppiatori, non siano proprio allineate alla mole di lavoro e all'impegno che ci mettono. Quindi ragazzi, mi raccomando, speriamo che migliori qualcosa. Io non posso fare nulla, purtroppo non ho potere in merito, neanche il mio pubblico ne ha, ma spero che voi con questo piccolo sciopero siate riusciti in qualche modo ad attirare l'attenzione, anche a far rivalutare un po' il vostro lavoro. Perché certe cose col passare del tempo si danno per scontate. Uno si guarda una bella serie, se la guarda in italiano, se la guarda anche mentre lava i piatti così, proprio perché in italiano la può seguire senza problemi. E si dimentica che qualcuno quel lavoro l'ha dovuto fare, ci si è dovuto rompere giustamente il culo. Andando avanti, cioè abbandonando questo discorso, mi è piaciuto moltissimo l'aspetto estetico di questa serie. Ora, io l'avevo notata già dal primo episodio questa cosa, però adesso mi sbilancio proprio in toto. Credo che siano riusciti a catturare perfettamente l'estetica di The Last of Us. Voi mi direte, vabbè, ma che cazzo di estetica vuoi catturare? Nel senso, è un mondo devastato come ce ne sono tanti. Potrebbe essere il mondo di Io sono leggenda, di 28 settimane dopo, potrebbe essere un mondo devastato X. Sì, è vero, un mondo devastato ha più o meno sempre le stesse caratteristiche. C'ha le finestre con le assi di legno inchiodate, c'ha le macchine abbandonate tutte arrugginite con i vetri spaccati, c'ha i palazzi sbruciacchiati, c'ha la vegetazione che invade l'autostrada. Sì, è bene o male, è sempre la solita solfa, perché realisticamente è quello che succederebbe. Però c'è qualcosa che quando guardi uno scorcio di The Last of Us, tu pensi, oh cazzo è The Last of Us? È proprio lui. Ora, io di là dovrei avere un libro, un librone, con tutte le immagini preparatorie, gli schizzi, i concept art di The Last of Us, dovrei, dico dovrei perché magari sta a casa di mia madre e se poco poco l'ha visto così di dorso e ha pensato che fosse l'episodio 45 dell'enciclopedia sui pesci abissali e l'ha sfondato, io l'ho perso per sempre, però diciamo che dovrei averlo di là. E ci riempirò questo video. Farò copertura usando quel bellissimo libro, visto e considerato che NowTV non mi permette di acquisire immagini, non mi permette di fare screenshot, né di registrare lo schermo, normalmente lo faccio con Netflix, con Disney, con Prime, con Now non lo posso fare, quindi da ora in poi inizierò a riempire il video di immagini provenienti da questo bellissimo libro. Scusatemi, purtroppo va così, Now ha paura della pirateria, terrorizzata, ti fa usare un'app proprio dedicata, mica dal browser, no, non si chiama mai, è un'app proprio di fosa. Bra, complimenti. Dicevamo, l'estetica è incredibile. La paletta cromatica è quella, è quella di The Last of Us, la stessa. Il modo in cui la vegetazione prende il sopravvento sugli edifici è proprio quella lì. Il modo in cui la ruggine si posa sulle macchine abbandonate è The Last of Us. Piccoli dettagli microscopici, ma che messi insieme fanno quella estetica lì e non un'altra. Non è io sono leggenda, è The Last of Us. E non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anche gli infetti sono realizzati magistralmente benissimo, benissimo. Mi aspettavo una cosa molto più farlocca, invece. Anche le vedute, i campi lunghi, i campi lunghissimi, con le città in lontananza, spesso si nota un pochino che sono compositing, però sono fatti veramente bene. Cioè, devi averci veramente l'occhio clinico, metterti lì come uno stronzo. Vediamo, fin dove hanno fatto... Cioè, vabbè, devi fare la merda, altrimenti veramente stupendo. Bellissimo. Dal punto di vista degli episodi, io so che alcuni sono stati... sono stati un po' così boicottati, perché certe cose non sono piaciute all'utenza. Capisco, capisco. Adesso noi discutiamo. Ho fatto uno short qualche giorno fa per discutere brevemente della cosa, ma ovviamente qui ci sarà la versione lunga, la versione un po' più esaustiva della mia analisi, dei miei soliti due spicci in merito. Allora, il fatto è che questo episodio incriminato è il terzo. Cioè, quindi, nella prima tranche di tre tranche che compongono la prima stagione di The Last of Us. Primo episodio è un episodio di presentazione, in cui conosciamo i personaggi, in cui sappiamo cosa succede al mondo, vediamo arrivare la catastrofe. Secondo episodio inizia finalmente il viaggio di Joel ed Ellie. Terzo episodio, c'è uno stop violentissimo. Molti parlando del terzo episodio come di un filler, io ne parlo come di uno stop improvviso. Filler non direi, perché sì, è vero, sono eventi che nel gioco non vengono raccontati così approfonditamente, anzi, vengono raccontati proprio diversamente, non è così che va nel gioco, però, ecco, questi eventi qui vengono rappresentati in maniera centrale. Ellie e Joel si fanno veramente da parte. Perlomeno Ellie e Joel al tempo presente, poi ci rientra Joel al tempo che fu, e soltanto alla fine dell'episodio ci ricolleghiamo con i nostri due protagonisti, che ci eravamo quasi scordati, dico la verità. È una cosa un po' strana, è una cosa un po' strana. A me l'episodio è piaciuto tantissimo, perché racconta di una cosa abbastanza inusuale in un contesto del genere, cioè di una storia d'amore nata in paradiso, in un piccolo angolo di mondo che in qualche modo è riuscito a rimanere intatto, a distaccarsi dalla bruttura che c'è tutto intorno, grazie sostanzialmente alle capacità, alle skill di sopravvivenza del buon Bill, alla sua misantropia galoppante, però ecco, è una piccola storia d'amore in paradiso, in quest'isolotto, proprio al centro dell'inferno. È bella questa cosa, molto poetica, e anche le dinamiche di questa storia d'amore sono interessanti, molto belle, però secondo me il problema è che questo episodio è piazzato lì, al terzo episodio. Piazzato al quinto episodio, avrebbe fatto un effetto diverso, non mi avrebbe fatto l'effetto di stop, ma mi avrebbe fatto l'effetto di, oh, cambiamo un po', perché dopo quattro episodi che te ti vedi il viaggio di Ellie e Joel, a un certo punto c'è una cosa nuova, che ti riattiva l'attenzione, che ti dà una chiave di lettura diversa di quel mondo, tante cose. Secondo me hanno sbagliato il piazzamento, per quello che è la mia percezione della cosa. Troppo presto, semplicemente. So che nel videogioco il personaggio di Bill lo incontri subito, però cambiare queste stronzate non è un problema, non penso che qualcuno se la prenderebbe, ok? Vi ho detto la mia, vi ho detto la mia. Ora, The Last of Us, secondo me rispetto a tanti altri prodotti post-apocalittici, presenta una lettura bellissima di quello che è l'infezione, la soluzione dell'infezione, e il sacrificio che si deve fare per salvare l'umanità. Di solito il sacrificio è di un gruppo di persone che fanno di tutto per trovare la cura. Qui è diverso. Qui il sacrificio non è quello. Il viaggio è la parte standard. Joey sa che deve fare quella roba. Cioè è la sua missione, sa che la deve fare. Punto. E all'inizio la fa in maniera meccanica. Come a dire, ok, io faccio questo, tu mi dai quello. È un lavoro. Joey lo fa per lavoro. Non c'è nulla di eroico in quello che fa. E non c'è nulla di eroico in quello che fa alla fine. Perché The Last of Us ha questo finale devastante. Cioè sapete, Ellie è immune. Questa ragazzina ha questo dono. Quindi sei immune, eh? Così pare. Nord VPN? Eh? Ma no, è una cosa genetica. Che ne so io. Ah, pensavo usassi Nord VPN, la virtual private network che ti protegge dalle minacce del web. Non la conosco. Ma in che mondo vivi? Ah, giusto. Vabbè, prima di questo casino c'era Nord VPN. Tu navigavi e stavi tranquillo e sereno. Malware tising, phishing, ransomware. Ti proteggeva da tutto. Forte. Eh sì. Pensa che con Nord VPN potevi anche aggirare il geoblocking e accedere a sconti, promozioni e vantaggi di tutto il mondo. Anche per prenotare un viaggio al prezzo migliore. Eh, però in questa situazione dove vuoi viaggiare? Anche con servizi di streaming, eh? Potevi farti un giro e vedere le serie tv che non c'erano nel tuo paese. Non ti capisco quando parli. Comunque, adesso c'è questa promozione attiva. Sul piano biennale ti becchi uno sconto esclusivo e un bonus. Ok, ora possiamo cercare del cibo. Forse più tardi, ora devo rinnovare l'abbonamento a Nord VPN. Almeno cerchiamo un riparo, potrebbero arrivare i banditi e... Quelli li puoi prendere a fucilate, ma i cybercriminali come li fermi? Nord VPN Ellie, Nord VPN. Vabbè. Eh. Perdonatemi per la qualità di questo piccolo inserto. Ho fatto le foto allo schermo perché i screenshot, come vi ho detto, non li potevo prendere. Comunque, Ellie è immune. Lei potrebbe essere la speranza per l'umanità. Joel fa tutto questo viaggio e poi ovviamente scopre che per estrarre questo suo dono bisognerebbe ucciderla, bisognerebbe privarla del cervello, comunque distruggerle il cervello. E a quel punto Joel decide di condannare potenzialmente l'umanità a morte perché vuole troppo bene a Ellie. L'atto di egoismo supremo. Che però dallo spettatore viene visto come un atto giustificato. Cioè ti fanno crescere questo rapporto, ti fanno affezionare così tanto ai personaggi che tu non puoi fare a meno di sentirti in colpa pure te perché ti fii per Joel. Però ti mette veramente in conflitto con te stesso della sto base. E la seconda parte lo fa anche di più. Quindi è un finale bellissimo, un finale estremamente amaro. Non è un finale Disney, senza ombra di dubbio è un'ammazzata allucinante. Però a me è sempre piaciuto tantissimo. È la parte del gioco, la parte della scrittura, la parte della narrazione che preferisco il finale. Credo che a modo suo sia anche geniale creare un eroe che fa un danno del genere. Un danno sterminato. Sì lo fai perché sei diventato papà in qualche modo. Per la seconda volta ti senti un papà e quindi non ce la fai. Stupenda questa cosa. E non vedo l'ora di vedere la parte 2. Che come vi ho detto riesce ad avere tematiche ancora più pesanti della prima. Cosa non mi è piaciuto di questa The Last of Us? Allora come vi ho detto secondo me il terzo episodio bello, stupendo, scritto benissimo. Ma doveva essere spostato un po' più avanti. Per fare varietà e non per fare interruzione. Questa è stata la mia percezione. Si vedono veramente poco gli infetti. Ora io lo so che The Last of Us non è un banale film di zombie dove il fulcro è il sangue, i mostri. Non è quello, è tutt'altro. Va bene, è una vicenda estremamente umana. Però anche in merito a quanto cazzo l'hanno fatti bene questi infetti, un pochino di infetti in più li volevo vedere. Anche perché, non so se vi ricordate come inizia la stagione, inizia questo scienziato che parla di sto fungo che potrebbe evolversi, potrebbe sostanzialmente potrebbe sopportare temperature più elevate e quindi potrebbe vivere nel corpo umano. Perché grazie a riscaldamento, cioè grazie per colpa, del riscaldamento globale, questo potrebbe mutare per adattarsi e finirebbe per trovare un ambiente vivibile anche nel corpo umano. Cosa che attualmente non è. Cioè quindi una cosa tutta scientifica, figa, collegata un po' anche al nostro mondo, alle meccaniche che stiamo vivendo nel nostro mondo. Porco giù da c'è stato il covid. Siamo anche abbastanza vulnerabili a questo argomento, pandemie, virus, cose. Bello, bellissimo, però poi nel resto di Tassovase gli infetti vengono calcolati pochissimo. Non dico che ce ne volevo tonnellate e tonnellate, continuamente scene con questi che corrono e gli infetti dietro, no, me ne frega un cazzo. Però proprio l'aspetto scientifico, l'evoluzione degli infetti, il modo in cui questi infetti vengono chiamati nel gioco, magari anche la scoperta di un infetto che i protagonisti non conoscono. Cioè queste cose mi sono un po' mancate. A un certo punto c'è una scena bellissima tra l'altro, una scena d'azione che arriva subito dopo il cecchino, una delle fasi di gioco più interessanti, proprio più belle da giocare secondo me. C'è un bordello di infetti che arrivano e tra questi infetti ne arriva pure uno enorme. Dura tre secondi quella roba, cioè l'infetto poi rimane sullo sfondo a fare casino, ma non gli viene data l'importanza che avrei voluto. Anche banalmente a livello di sceneggiatura, anche soltanto descriverlo, magari fare una piccola menzione al nuovo infetto enorme, spavento... Cioè queste cose un po'... mi sono mancate, ecco. Non che non ci siano, ma secondo me ce ne sono un po' pochine. Non mi è mancata invece l'azione. Perché è vero, a volte nel gioco c'è un sacco di azione, perché tu devi giocare, ti devi divertire della parte interattiva, e quella è tutta azione, la parte interattiva. Anche se poi nel gioco ci sono tanti dialoghi che avvengono proprio durante le fasi di gioco. Rastovas non è a compartimenti stagni, riesce ad essere narrativo anche durante le fasi action. Però qui l'azione è un po' risicata. Ma ci sta. Ci sta. Perché? Beh, perché in un mondo del genere, signori, voi che fareste? Vi buttereste sempre nella mischia rischiando di rimetterci la pelle, sapendo che state scortando la soluzione alla piaga che sta distruggendo il mondo? O ve ne stareste in disparte cercando di evitare lo scontro? Ecco, cioè dal punto di vista del realismo della serie, è molto più probabile che questi sgattaiolino nel buio senza cagare il cazzo a nessuno, piuttosto che si ritrovino a combattere con le spranghe, con i fucili, con le pistole. Quindi ci sta, l'ho apprezzata questa azione ridotta rispetto al gioco, che a un certo punto diventa veramente insensata, soprattutto nella fase finale, il salvataggio di Ellie nel gioco. Ecco, qui Joel effettivamente sembra un po' Rambo nella serie di tv, accoppa 7-8 persone da solo, ok, ma nel gioco ne accoppi 9.000 di persone, cioè uccidi un piccolo stato con le tue mani. Esageratissimo. Qui già esagerato nella serie, se avessero fatto come nel gioco, voi avreste detto a Joel, ma vaffanculo! Sicuro! Sicuro! Quindi questa cosa dei pochi infetti, o comunque della poca considerazione verso l'evoluzione del virus, del Cordyceps e degli infetti, un po' mi ha lasciato, non dispiaciuto, un pochino deluso. E un'altra cosa che purtroppo non mi ha convinto appieno, è stato l'episodio, penultimo episodio. Non perché sia più breve, non perché sia più breve, ma secondo me il cattivone doveva essere un po' più viscidello. Sempre per il discorso che vi dicevo prima, cioè nel gioco tu impari ad odiare un personaggio perché sei contro di lui. Quel personaggio, quel maledetto prete schifoso, pedofilo, cannibale tra l'altro, quel bastardone lì nel gioco tu lo devi affrontare. E lo affronti usando Ellie, cioè tu sei una ragazzina contro un adulto, nel suo territorio, quindi lui gioca anche in casa. Basta quello per odiarlo. Perché lui ti rompe i coglioni e tu devi cercare di non farti ammazzare. Basta quello. Io avrei spinto ancora di più sulla sua viscidità, viscidezza, viscidù, sulla sua stronzaggine. Cioè avrei giocato molto di più. È quasi più buono nella serie che nel gioco, capite? Volevo odiarlo di più. L'ho odiato allo stesso perché mi ricordavo quanto mi ha caccato il cazzo nel gioco, però l'avrei fatto ancora più scuro, ancora più buio quel personaggio. Per quanto sia effettivamente reso bene, è un manipolatore, è un bastardo, è un approfittatore, quello che vuoi, è un cannibale, ma anche lui sembra fare quello che fa per salvare la sua gente, in qualche modo sicuramente distorto. Sembra quasi un uomo costretto a, piuttosto che un uomo che in fondo se la gode parecchio. Mettiamola così. Ecco, ma veramente, come vedete, le cose che non mi hanno convinto sono veramente cazzatelle. Cazzatelle. In quanto alla durata di quell'episodio, quello è un episodio che dura molto meno degli altri, molto meno, 10 minuti meno degli altri, io sono d'accordissimo, perché come vi dicevo, è un episodio in cui ci sono, anzi è una sezione del gioco, in cui ci sono fondamentalmente poche cose. Ellie viene rapita, va a caccia, questo cervo, quella fase lì dura tre anni, con te che devi cercare questo cervo nel bosco, lì dura 5 secondi. Poi c'è Ellie che viene rapita, Joel che deve salvare, quindi c'è Joel che striscia dietro le macchine, tu devi catturare gli uomini, così li devi sgozzare alle spalle, dura due ore quella parte. Ellie che combatte contro sto stronzo nella stanza che va a fuoco, dura pure due ore. Cioè, il giocatore si ricorda che quella cosa è lunghissima, in realtà, narrativamente parlando, sono quattro stronzate in croce. Tagliando le parti d'azione, le parti di gioco, viene fuori una cosa che dura poco. E sono contento che abbiano deciso di tenere quell'episodio come una sezione a sé stante, proprio che inizia, finisce, stop. Bellissimo. Bellissimo. C'è una cosa che io pensavo che l'avrei messa in questa sezione del video, cioè nella sezione delle cose che non mi sono piaciute e invece mi è piaciuta un botto. Io pensavo che qui ci sarebbe finita la scena delle giraffe e ci sarebbe potuta finire in due modi. Modo uno, se l'avessero tagliata. Se avessero tagliato quella scena lì, io mi sarei incazzato come una bestia. Ma ero pronto a incazzarmi anche se l'avessero messa perché ero quasi sicuro che avrebbe fatto schifo. Ero sicuro che sarebbe stato di un cringe atomica. Invece, ce l'hanno messa ed è bellissima. quella scena che tra l'altro è anche nel gioco un omaggio a Jurassic Park, sai la scena con i bracchiosauri, i ragazzini sugli alberi che vedono da vicino e li toccano. Quella scena lì ha un'importanza incredibile a livello emotivo per i personaggi perché in quel punto del gioco Ellie non è più Ellie. Ellie non scherza più, Ellie non è più molesta, non punzecchia più Joel, smette di essere la quattordicenne incredibile che è. Perché lei è una quattordicenne incredibile? Che fa di così incredibile rispetto a un'altra quattordicenne? Una ragazzina intelligente, vivace si comporterebbe come Ellie? Sì, ma non in quel mondo. Ellie riesce a passare sopra cose terribili che le sono capitate, cose orribili che anche lei è stata costretta a fare. Riesce a passare sopra al fatto di essere perennemente in pericolo, riesce a passare sopra al fatto di essere un peso per Joel, perlomeno all'inizio. Nulla la butta giù. Quindi quando tu vedi Ellie che è pensierosa, non riesce più a scherzare, cioè ti senti male, che vuol dire che qualcosa veramente si è rotto dentro di lei e l'arrivo delle giraffe e il fatto che lei per un attimo ritorni una ragazzina, ritorni a sorridere, ritorni a giocare un po' col mondo e con la vita, quella cosa è bellissima, piazzata in un punto esatto del... Perciò mi sarei incazzato se non ce l'avessero messa ed ero pronto a incazzarmi se avesse fatto cagare. In realtà è andata perfettamente bene. Sono stato contentissimo di come hanno reso quella scena. Non blatero oltre, ragazzi. Potrei parlare all'infinito, veramente. Potrei parlarne all'infinito perché ho avuto una doppia esperienza con The Last of Us e... Beh... Insomma... È stato profondo per me questo primo blocco narrativo di The Last of Us. Non vedo l'ora di vedere il secondo. So che è stata riconfermata Bella Ramsey. Questa cosa mi fa un po' strano perché Ellie nel secondo capitolo è molto molto più donna. Molto molto cresciuta. Non è che Bella Ramsey nel primo ha veramente 14 anni, lei ha 18-19 anni. Cioè l'attrice è già una ragazza... Cioè ha già l'età che dovrebbe avere Ellie nel secondo gioco, per dire. E quindi non so come faranno a farla crescere di botto perché lei comunque mi sa che ha quei tratti lì. Cioè lei non è una ragazza sovrasviluppata che cresce in fretta ormai a 19 anni e lei penso che manterrà quell'aspetto molto giovanile tanto a lungo. È come un po' una Cristiana Capotondi, non so se sapete, ma lei fino a 30 anni ha fatto la sedicenne. Adesso, adesso che ci ha 120 anni fa la mamma di 35. Però insomma, ci sono delle persone che invecchiano molto molto lentamente, beate loro. Io sono invecchiato velocissimamente, dai miei 15 anni ai miei 20, sono diventato come sono adesso, ma poi sono rimasto così. Quindi mi sono congelato in questa forma, ho dei peli bianchi nel pizzetto. È l'unico, praticamente è l'unico indizio che lascio all'umanità per far capire che anch'io morirò. Comunque, questo è il mio pensiero su The Last of Us, una gran, bella prima stagione. Forse alcune cose potevano essere affrontate meglio, soprattutto il piazzamento del terzo episodio, come quinto secondo me, perfetto. Ma ce ne fossero, ragazzi, ce ne fossero. In questi giorni mi sto iniziando a guardare pure House of the Dragon. Per ora non mi sta dispiacendo, però ci sono delle cose che mi sarei aspettato di vedere in un'altra forma, sicuramente. Ne riparleremo appena finirò House of the Dragon, con Nauti, e anche lì non ci saranno immagini di copertura, mi dispiace, non si può fare.